... Insieme ai velivoli da trasporto, gli elicotteri HH-3F del quindicesimo stormo di pratica di mare sono tra gli assetti più versatili a disposizione dell'aeronautica militare per l'impiego in missioni fuori aria, oltre ai confini della nostra tradizionale area di responsabilità, come braccio aereo dello strumento militare nazionale. Lo dimostrano le oltre 4.000 ore di volo effettuate dagli HH-3F che dal giugno 2003 sono rischierati in Iraq nell'ambito del Sesto Roa, Reparto Operativo Autonomo, un assetto joint inquadrato nel contingente italiano e formato da personale ed elicotteri dell'aeronautica e dell'esercito e che impiega anche i velivoli a pilotaggio remoto Predator. Il livello addestrativo degli equipaggi e le caratteristiche delle macchine in dotazione fanno spesso dell'aeronautica l'unica componente in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse. Grazie all'effettiva e generalizzata capacità di impiego di giorno, di notte e in condizioni meteo marginali, con l'utilizzo di ausili frutto della tecnologia più avanzata come i visori notturni, gli HH-3F rappresentano un punto fermo nelle missioni più complesse e di difficile gestione. Con l'aggiornamento degli equipaggiamenti degli elicotteri, ormai da tempo, i reparti montati su HH-3F hanno sviluppato una notevole capacità Combat SAR molto apprezzata anche in campo internazionale e alleato. Condurre, anche in ambiente ostile, operazioni di soccorso e di evacuazione sanitaria, così come missioni di trasporto o di supporto alle forze speciali, è perfettamente alla portata degli uomini e dei mezzi dell'aeronautica militare. Rappresenta un altro aspetto della loro quotidianità e un patrimonio di capacità a disposizione del Paese. Grazie a tutti.